Ciao Pischè, sono tornata Stasera dovevo andare mucca assassina Ma alla fine L'amica mia amare detersivi Mi ha dato buca E quindi mi sono messa a fare video Diciamo E' mezzanotte Devo pure far piano perchè sennò Le quinquie mi ammazzano Volevo far vedere che trucco favoloso Lo so fatta oggi Stasera Manola make up Favola Favolosa vero La matita bianca comunque adoro E come sempre Allora mentre mi sento innegrammato sotto Stasera volevo toccar Un po' di Madonna ma come cazzo se falle Sta cam che si sfoga da sola Porco due Vediamo se ci riesco Oddio sono rimasta così Bella Eccola Ferma così non temo Ok Niente Io ho comprato 45 euro di cam E alla fine fa come cazzo gli pare Fa Vabbè No però non si può Non posso girare video così Cioè non si può Su bella Forse la mette più lontano Si pare che si Ho portato una cam che registra in HD E guardate che cazzo mi devo vedere Oddio Oh madonna Mannaggia a voi che mi volete Con i capelli lunghi Regà Allora Cercando di stare ferma così La cam Non sfarfallia da sola Non si sfoga Stasera Parliamo De Cazzi Non è vero regà Mi scherzavo Dovesse mi nuvolgare Ma quanto sono favolosa da una 10 stasera regà Parlami d'amore Allora niente E io volevo parlare dell'ultimo video Del generale Maximo Dove ho alza i pesi E si vedono tutti i muscoli Quello È il tipo d'uomo che cerco regà Anche se so che alla fine Al generale Gli piace questa Che tra poco ci avrò pure io Non ti preoccupa Al generale Solo per te No più che altro Perché è sposato regà E quindi Io non so Una rovina famiglie Comunque Sono sempre a cercare marito E niente Gli voglio dire Al generale Che È veramente molto Molto Così Popò Così E Che quindi Lo ringrazio Per l'amicizia Che mi ha chiesto Però vabbè Ogni tanto Se parliamo pure Su schife Con lui Madonna Staganna Che devo fare Come metto a piangere Già che mi ritrovo Il venerdì sera A casa da solo Da sola Già che mi ritrovo Il venerdì sera A casa da sola Perché Mario Detersivi Mi ha dato buca Non posso uscire Perché la monola Non c'ha la macchina Non è motorizzata Per questo cerca Un uomo motorizzato Come il generale Maximo Comunque Niente In generale Sto video Te lo dedico a te Tanto per Fatte due saluti Du bo 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 Du Du bo Bo Te lo sai Io no E niente Devo mandare Due bacetti A te E un Baffanculo A chi sa lei Ciao E ciao Bisca